Carissimi amici, è arrivato PaninoTube e oggi torniamo nella serie di Horror Brawl, il gioco multiplayer con i personaggi di Ice Cream, Mr. Meat, Evil Nan Oggi torniamo qua perchè ho delle novità da darvi, delle grandi notizie E bene si che i players hanno finalmente svelato una parte della mappa della prossima stagione La stagione con Ice Cream, il nostro caro gelataio, che arriverà praticamente fra 25 giorni Anzi, quando vi vedrete questo video sarà già fra 24 perchè sto registrando il giorno prima di quando uscirà il video Di quando ve lo vedrete, quindi oggi in questo video cercheremo di vedere un po' di cose, un po' di novità Che riguardano appunto la prossima stagione Quindi partiamo subito, ma come sempre c'è di qui sento tantissimi like Se like che lascerete sarà pari personaggi, sono già associato voi sarà sister Madeline Se invece like sarà dispari personaggi, sono già associato voi sarà Charlie Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali personaggi siete associati E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Ma adesso partiamo subito, cominciamo Tra l'altro ci tenevo anche a dirvi una cosa Vi ricordate quando vi ho parlato di un video speciale in collaborazione che stavo facendo con altri youtuber? Beh, alla fine abbiamo deciso di farlo quando uscirà la nuova stagione Fra quegli youtuber ci sarà anche un game time, un carissimo youtuber che fra poco raggiungerà i 100.000 iscritti In questo momento ne ha 98.000 Quindi mi raccomando passate dal suo canale perchè porta dei video horror molto molto interessanti Magari a molti di voi potrebbero piacere i suoi video Quindi vi lascio qui sotto in descrizione Dai 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 facciamole arrivare ai 100.000 in questi giorni Che ci tengo veramente tanto Ma adesso finalmente andiamo qua in partita Cioè cerchiamo un po' di scoprire come sarà questo grande aggiornamento questa nuova stagione Beh per prima cosa i personaggi Potremmo avere dei nuovi personaggi in più Ad esempio no? Ci potrebbe essere Mike, Liz No è perchè effettivamente qua per il momento abbiamo soltanto 4 bambini I Keplerians infatti avevano detto quando hanno presentato il gioco Che per il momento avremmo cominciato con 5 personaggi in totale Ma poi più avanti sarebbero aumentati Li avrebbero ampliati E quindi può darsi che avremmo anche Mike, Liz e qualcuno in più Non lo so adesso chi potrebbero aggiungere Sarebbe veramente molto interessante Forse anche il personaggio di Vol'Nan 1 E per qui guardate qua Gli horrors Molti di voi infatti nei commenti erano preoccupati Che mi dicevano Panino ma quando uscirà la nuova stagione di Ice Cream? Evil Nun sparirà? No! State tranquilli Sister Madeline rimarrà qui sempre davanti a noi Rimarrà sempre qui con noi Con tutte quante le varie skin Anche perchè scusate Chi ha comprato le skin? Cioè Le avrebbe poi perse Invece no La nostra cara suonetta rimarrà qui con noi A farci compagnia Anche nella prossima stagione E quindi noi potremmo scegliere se tenerci Sister Madeline Oppure Rod il gelataio E anche con Rod prepariamoci Perchè ci saranno tante skin da scoprire Tante cose da vedere E non vedo l'ora Allora direi di fare una cosa va Direi di selezionare Charlie Così per fare questo video Visto che il prossimo giorno No che Oh selezionami Charlie Che No no io voglio usare Charlie qua Datemi un Charlie Fatemi selezionare Charlie Ce la posso fare qua Seleziona A posto Perfetto Teniamo Charlie Visto che comunque Charlie è anche il protagonista di Ice Cream 6 E molto presto c'era un grande aggiornamento del sesto capitolo del gelataio Poi vi faccio pure vedere una cosa Andate nello shop Perchè ogni giorno qua si possono riscattare 60 monete gratis E quindi oh se ci sono ste monete prendiamole no Sono sempre utili Adesso direi di andare qua in partita ma lo facciamo in modalità single player Quindi facciamo qua partita privata Crea sala Andiamo soltanto noi in partita E tocchiamo play Ok si parte si comincia Si comincia Così cerchiamo anche un po' di esplorare questa mappa E dopodichè la confronteremo con le prime immagini ufficiali che sono uscite Della nuova stagione di Horror Brawl 2 Ok guardate qua che coso Ho lo zaino del mini rod Charlie con la skin di Natale Anche se ormai Natale è già passato Però dai ci sta ci sta Una cosa che un po' in realtà non mi è piaciuta di questo nuovo aggiornamento E che hanno ravvicinato forse un po' troppo la visuale E quindi io faccio un po' fatica a vedere Quello che ci sta davanti Se tipo davanti ci stanno dei giocatori Io non riesco a vederli Non me li fa vedere In questo momento siamo nella prima stagione di Horror Brawl Siamo praticamente dove si trova L'Igor School Scuola di Volnan Infatti questa stagione era incentrata sul rientro scuola Horror Brawl è uscito a inizio ottobre Quando da poco avevano riaperto le scuole E questa stagione era dedicato a questo Il rientro scuola Ma aspettate ma di qua io non ho mai provato a saltare Ma cosa? Ma che roba? Allora scendiamo di qua Va vediamo se riusciamo a trovare qualche pietra del caos Così almeno ci trasformiamo nella Sister Nurse Madeline Qui c'è qualcosa Niente di niente Poi dopo mi raccomando Rimanete sintonizzati Perché vi farò vedere anche le prime immagini ufficiali Del nuovo aggiornamento Della nuova stagione di Horror Brawl Allora qui c'è qualcosa Qualche pietrolina del caos Da queste parti E te pareva E te pareva Ma qua volete vedere che tipo completo la partita Perché Senza una pietra del caos Cioè vado ovunque senza trovarla No una so dove posso trovarla effettivamente Lì la trovo sempre di fisso Dove c'è la chiesa Dove c'è la chiesa Trovo sempre almeno una pietra del caos Qui dentro invece Vediamo se c'è qualcosa Ecco preparatevi perché Nella prossima stagione di Horror Brawl Noi potremmo No e salta di qua Salta di qua Potremmo diventare Rod il gelataio E non vedo l'ora Visto che molti di voi mi chiedevano La mod di Outfit Per diventare Rod E boh C'è direttamente la possibilità Su Horror Brawl Di diventarci Quindi ecco Poi un'altra cosa Mi raccomando Se non avete ancora scaricato Questo gioco Non aspettate la nuova stagione Perché adesso Ci sono dei premi Ci sono delle ricompense Che si possono ottenere Soltanto con questa stagione Ad esempio Le skin di Sister Madeline Ci sono adesso Non è detto che con la prossima stagione Se ne possono sbloccare altre Quindi fate tutto quanto adesso Per riscattare i premi esclusivi Di questa stagione Perfetto Soprattutto quelli che riguardano L'Horror Pass Eh no I premi dell'Horror Pass Sono esclusivi Soltanto ora O lo fate ora O non li potrete mai più risbloccare Ok Apri qua Dai una pietrolina Non si trova da queste parti Una bella pietra del caos E mi raccomando Utilizzate pure i graffiti Guardate qua A terra mi ha messo il graffito Mi ha messo il graffito a terra Allora Qualche bella pietrolina Si trova da queste parti Mi farete divertire almeno Con Sister Nurse Madeline Come chiamarla Lei neanche so come chiamarla Ma neanche qua Su datemi sta pietra Ce ne ho trovate tre subito Ai primi turni E mo mi manca la quarta Che non si riesce a trovare Ma dai Fatemela trovare Fatemela trovare qui dentro Niente Niente Qua mi sa che Mi faranno girare l'intera Eagle School Spero di trovarla almeno Oh Finalmente Finalmente vi ho trovato La pietra del caos Ma che bello Ma che bello Si adesso sto giocando da solo Quindi tecnicamente Non è che c'è tanto da fare Ecco giocare da solo È come se voi provaste a giocare Ad horror brawl In difficoltà Fantasma In difficoltà pratica In questo modo potete esplorare Meglio La mappa Potete tipo provare A trovare delle vostre strategie E può essere sempre Molto molto utile Il portale si aprirà Fra un minuto E tot seconde Ma io nel frattempo divento Sister Nurse Madeline La sua retta è diventata Un'infermiera cattiva Sono un'infermiera cattiva Si che bello Che bello Dove siete amichetti E niente Sono rimasto soltanto io Quindi non ci sta nessun altro Non ci sta nessun altro Quindi preparatevi Il mese di febbraio Sarà un mese ricco di novità Ci sarà innanzitutto Il 4 febbraio Il grande aggiornamento Di escro in 6 Poi il 10 febbraio La nuova stagione Di horror brawl E chissà Forse anche qualche altro gioco Anche perché Dovrebbe uscire anche il nuovo gioco Di The Curse of Stepmother Emily E non vedo l'ora di provare Questo nuovo gioco Della matrigna cattiva No però qua intanto Mi sta per scadere il tempo Via 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 Tanto ormai E non posso fare altro Perché tanto Non ci stanno nemici Vabbè Almeno mi sono trasformato Per un attimo Nel nemico horror Va bene Allora Qui non è che c'è più di tanto da fare Io direi di fare una cosa Visto che Non è che c'è altro da vedere In questo momento Perché la scuola di Sister Madeline È questa Questa è la Girl School Abbiamo già vista In più versioni Abbiamo visto su Evil Nan 1 Su Evil Nan 2 Su Evil Nan Mezzo In una maniera un po' particolare Dovevamo vederla anche su Evil Nan De Broke & Musk Ma quel gioco ancora Non è uscito Non è ancora uscito Evil Nan De Broke & Musk Ma che roba Nel 2021 Sarebbe dovuto uscire È stato annunciato nel 2020 E stiamo ancora qua Da aspettare Stiamo agli anni Da aspettare Quando uscirà Evil Nan De Broke & Musk Come minimo Avrò la barba bianca Di sto passo Vabbè A parte scherzi Direi adesso Di finire qua Questa breve partita In singola E poi andiamo a vedere Le immagini ufficiali Della prossima mappa Di Horror Brawl Vabbè Vittorio Ero da solo Non è che potevo fare altro Non mi potevo neanche Auto eliminare Perché non c'è la possibilità Di auto infliggersi i danni Anche se qualche arma Del genere Potrebbero metterla Forse qualche arma Magari Non lo so Tipo una sorta di granata Da lanciare Che però Se noi stiamo troppo vicini Ci possiamo prendere il danno Sarebbe molto molto utile Molto divertente Va bene È il tuo grado 1 Che è perfetto Andiamo subito a vedere Le immagini ufficiali Della nuova stagione Di Horror Brawl Ma prima vediamo così Le offerte esclusive Per curiosità C'è il rosario d'oro E poi il rosso Va bene Andiamo a vedere le immagini Ed eccola qua Questa è la prima Immagine ufficiale Della prossima mappa Di Horror Brawl Della prossima stagione Infatti potete leggere qua Horror Brawl Season 2 Stagione 2 E questa stanza Ve la riconoscete molto bene La riconoscete molto bene Ebbene sì È la stanza dove è ambientato Praticamente L'inizio dei primi tre Ice Cream È la stanza DJ E infatti questo ci fa capire una cosa La stanza DJ Come la sua casa Sarà uno delle zone Uno degli ambienti Che noi potremo esplorare Nella prossima mappa Di Horror Brawl Ci potremo entrare E qui possiamo pure notare Che ci sta una chest C'è una chest Quindi vuol dire Che troveremo delle armi Chissà se ci saranno anche Delle nuove armi Sarei veramente curioso Di scoprirlo Sarei molto molto curioso Qui c'è un armadio Sicuramente questo armadio Si potrà aprire Forse per vedere se C'è qualcosa dentro Qualche arma Qualche pietra del caos E vabbè Andiamo sempre indietro qua Con lo zoom Questa è la finestra Della casa DJ E guardate bene una cosa Guardate bene qua Che cosa c'è C'è praticamente Quella cosa Che ci consente appunto Di far saltare il personaggio Quindi noi potremo saltare Da quella finestra Per scendere direttamente sotto In campo In battaglia E affrontare i nostri cari amici Vediamo qui intorno Se c'è qualcosa Qui ci sono delle case Chissà se potremo esplorare Anche le case dei vicini Chissà Lo stile comunque È lo stesso Che c'è anche Nella prima stagione Di Horror Brawl Quindi hanno preso Il quartiere che c'è Su Ice Cream E lo hanno reso graficamente E noi vedremo il quartiere Che c'è su Ice Cream Però in una maniera più horror In una versione un po' più apocalittica Come se fosse successo qualcosa Avete presente Quelle città disabitate Dove è successo una cosa brutta Ecco Una roba del genere Un quartiere tutto quanto Disabitato Con le macchine incidentate Tutte quante distrutte Come se fosse accaduto Qualche fenomeno horror Se Nasrath avesse causato Tutto quanto Sarebbe molto divertente Se aggiungessero comunque Dei riferimenti Una sorta di storia Che ci porta Alla fine dentro Questa nuova stagione Di Horror Brawl Questa è una scena del quartiere Ma non escluso Che dentro la mappa Ci saranno poi anche altri posti Sappiamo che le mappe di Horror Brawl Sono molto molto grandi Quindi probabilmente Potremo trovare anche altri posti Come ad esempio Il circo La metro Il centro commerciale Insomma Sarà una mappa molto grande Dove poter giocare Tutti quanti insieme E quindi che dire Per il momento Direi di finire qua il video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Ti sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spallicciate Così vedete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro Buon panino a tutti